visitando le officine di sante ostacchio vera cucina di vulcano dove si liquefanno i metalli e dove è stata recentemente realizzata la più grande fusione unica finora compiuta in italia con 165 mila chilogrammi di ghisa ardita operazione della tecnica bresciana per la quale occorsero 10 forni con 7 grandi caldaie rovesciabili e 6 gru a pompe e che ora dopo circa un mese di raffreddamento è felicemente compiuta dando forma alla colossale incudine da maglio del peso di 150 mila chilogrammi che vedrete destinata alla cucinatura di eliche in alluminio grazie a tutti